In occasione del suo ultimo giorno la fiera di San Giorgio a Gravina in Puglia non ha smesso di regalare intrattenimento per i cittadini e turisti giunti in città in occasione di questo importante evento. Come di consueto la chiusura della fiera combacia con un cerimoniale, il corteo storico dell'associazione Conte Giovanni di Monfort. La partenza dalla scuola San Giovanni Bosco con una sfilata per le vie della città e l'arrivo in piazza della Repubblica per le celebrazioni finali. Nel ritorno della secolare fiera regionale, giunta la sua 729esima edizione, presente anche un volto particolarmente familiare al grande pubblico, Ron Moss. A vestire i panni di re Carlo II d'Angio durante il corteo quest'anno è stato proprio l'attore americano. Ron, qual è la tua esperienza qui a Gravina in Puglia e il tuo rapporto con la Puglia? Sì, il rapporto che mi lega con la Puglia è meraviglioso da diverso tempo e ho trovato in Gravina una bella cittadina e mi sembra come se avessi vissuto questo momento migliaio di anni fa. Per quest'estate avrò un tour con la mia band, tour musicale, anche perché abbiamo realizzato un album, sarò in giro anche in Sicilia e per me è un'esperienza bellissima quella di girare un po' in tutta Italia ma anche in tutto il mondo. Oggi ci accingiamo a chiudere quella che è stata appunto una settimana ricca di turisti, di eventi, di espositori che hanno riportato a Gravina la voglia di fare festa e di vivere nel periodo di fiera, la fiera più antica d'Italia. Infatti il nostro corteo rievoca quel momento in cui è stata ridata alla città di Gravina 729 anni fa il diritto di esercitare l'antica fiera San Giorgio che si svolgeva dal 18 al 23 aprile circa.